Vittoria dell'Asla di Arezzo nella simulazione a sei squadre sui temi dell'emergenza a urgenza. Siamo la Kermess Sanitaria in corso al Centro Affari, dove il personale proveniente dai reparti 118 e pronto soccorso dell'emergenza a urgenza di tutte le tre Asle toscane, comprese le aziende universitarie di Pisa e Firenze, si è sfidato per risolvere i casi quotidiani di salvataggio, dagli infarti agli incidenti. Alla fine, su un caso di politrauma da incidente stradale, si è giudicata la vittoria alla Asla Toscana Sud-Est con la squadra dei soccorritori Aretini. Una soddisfazione alzare la Coppa della Vittoria per i ragazzi guidati per il pronto soccorso da Maurizio Zanobetti e per il 118 da Simone Nocentini.